Sei centri di raccolta e smaltimento rifiuti sono stati chiusi in seguito ad un'indagine dei carabinieri forestali del comando di Arezzo. I dettagli ce li dà il comandante il colonnello Claudio D'Amico. Si tratta di una delle più vaste operazioni contro il traffico illecito di rifiuti in provincia di Arezzo, un maxi sequestro di autocarri in tutto 30 utilizzati secondo gli inquirenti per trasportare rifiuti speciali senza averne l'autorizzazione adibiti per lo più al trasporto di rottami ferrosi e rame. L'attività di indagine durata alcuni mesi ha consentito di scoprire un vero e proprio giro di questo tipo di rifiuti che valeva circa un milione di euro all'anno. L'operazione è stata piuttosto complessa diciamo e prolungata più anni a due livelli. Abbiamo deciso, d'accordo col pubblico ministero dottoressa Manziello, di intervenire non solo a livello dei manovali di strada, i cosiddetti ferri vecchi, ma di mirare anche ai centri di raccolta, i cosiddetti rottamatori, centri appunto di rottamazione e di recupero di questi materiali. Complessivamente sono stati interessati sei centri che sono stati chiusi per le irregolarità che sono state riscontrate per un volume di rifiuti di circa 4.500 tonnellate che sono state ridestinate finalmente al trattamento regolare. L'ultima operazione, che è un corollario di tutta questa attività, è stato il sequestro per la confisca, di oltre 30 automezzi, erano i veicoli usati da 26 trasportatori non iscritti all'albo gestori, per cui diciamo che costituivano un po' la rete diffusa sul territorio per alimentare questa gestione illecita di questo tipo di rifiuti.